E' visto lei come fa, avete visto lei come fa? Inizia con la bicicletta, cantichiando, col tramonto e piange e poi si mette là sopra come... Tina, al di là dell'amicizia che ci tra me e Gemma, ma guardare queste immagini, vedere una donna che ci crede, che ancora veramente spera, che è piena d'animo, che sa di piacere e sa di poter piacere, Ma chi piace? Ma la domanda che io ti rivolgo a te, ma se piaceva, tu comunque stai facendo la fine di lei, tu stai seguendo lo stesso percorso, te lo dico io, ma certo, perché tanto tu, pure tu non è che concludi tanto, si vede queste immagini, al di là della mia amicizia Ma cosa ti suscita? No, tu che sei tanto una donna piena di vita, ancora che ci crede, una donna che ci spera, ma non la vedi quanto è ridicola, ma non la vedi quanto è ridicola, ma certo, si è ridicoli, come lo cerca lei, è ridicola, cioè una donna di 72 Ha semplicemente fatto l'annuncio per dire io sono qui, venite a corteggiare Sì, ma secondo te una donna si mette sul letto con i reggi calze, con le gambe così, a dire ti aspetto, ma dai Ma se l'avesse fatto con un mantello fino ai piedi non avrebbe avuto senso, no? Grazie